Salta ieri l'assemblea del parco di Portoconte per mancanza del numero legale. Assente buona parte dei consiglieri di maggioranza, pesano i rilievi su alcuni atti contabili finanziari. In Sardegna prosegue la corsa le vaccinazioni anti-covid in crescita, le somministrazioni trainano le terze dosi ma si registra un aumento anche delle prime per effetto dell'entrata in vigore del Super Green Pass. Domani giorno dell'Immacolata all'accensione dell'albero di Natale in piazza Portaterra, oggi al Qualtè la presentazione di Moby Dick, l'allestimento scenico pluripiemmiato del Teatro dei Venti che andrà in scena nel porto turistico. Si chiude intanto il cartellone di eventi di Plasalghè. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati telespettatori di CatalanTV. Come di consueto aprono i TG i titoli del nostro telegiornale e la politica è l'assemblea del parco di Portoconte, andata deserta ieri pomeriggio in prima convocazione. Presenti solo buona parte dei consiglieri di opposizione, mentre per la maggioranza, oltre al sindaco, c'erano gli esponenti di Udc e riformatori. Non è chiaro se le assenze siano legate alla crisinatto del centrodestra, ma è più plausibile l'ipotesi legata ai rilievi mossi dal centrosinistra su alcuni atti contabili finanziari dell'ente parco. Consiglieri di opposizione che avevano scritto a tal proposito al segretario generale del comune di Alghero, Giovanna Solinas Salaris, e ai componenti del comitato di governance delle partecipate. Segretario comunale che aveva, dal canto suo, consigliato di posticipare di una settimana l'assemblea, ma così non è stato. Ieri Adriano Grossi, in sostituzione del presidente Raimondo Tilocca, assente il direttore del parco Mariani, hanno proceduto con l'appello e non hanno potuto fare altro che dichiarare deserta l'assemblea. Lavori rinviati alla seconda convocazione prevista per quest'oggi, quando basterà un terzo dei consiglieri. Resta da capire se l'assemblea effettivamente si terrà o se salterà di nuovo. In Sardegna prosegue la corsa alle vaccinazioni anti-covid. In crescita le somministrazioni trainano le terze dosi, ma si registra un aumento anche delle prime per effetto dell'entrata in vigore del Super Green Pass. Nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre le inoculazioni nell'isola sono state complessivamente 75.805, di cui 64.972 dosi booster e 4.836 prime dosi. Un incremento significativo rispetto alla settimana precedente, dal 22 al 28 novembre, dove il totale delle somministrazioni ha segnato quota 53.216 dosi, di cui 44.514 booster e 3.652 prime inoculazioni. Se si torna più indietro, i numeri sono più che raddoppiati se raffrontati alla settimana dal 15 al 21 novembre, dove il totale registrato è di 34.045 dosi, di cui 25.875 booster e 2.888 prime dosi. Nella giornata di domenica si è chiuso a Cagliari l'open day dedicato alle terze dosi per il personale sanitario, scolastico e le forze dell'ordine. Per l'occasione nel lab della fiera sono state somministrate 1.370 dosi. Il nuovo incremento delle somministrazioni, dichiara il presidente della regione Cristian Solinas, è un segnale molto positivo in questa fase della campagna vaccinale. La battaglia non è ancora vinta, ma gli importanti risultati raggiunti li vediamo riflessi sull'attuale impatto che il Covid sta registrando sulle ospedalizzazioni, dove l'occupazione delle terapie intensive si assesta al 6% e le degenze in area medica al 5%, entrambe sotto la soglia critica. Tuttavia il virus resta una minaccia per il diffondersi delle varianti. Il vaccino rappresenta la nostra arma più forte e noi continueremo a potenziare gli hub e punti di vaccinazione su tutto il territorio per poter continuare a difendere la salute dei sardi e il nostro tessuto economico e sociale. Bene, il trend delle vaccinazioni in questa fase è particolarmente delicata per il dilagare della quarta ondata in Europa e in alcune regioni italiane, commenta invece l'assessore regionale della sanità Mario Niedu. In Sardegna, conclude l'assessore, sono state somministrate 2 milioni e 7 di dosi. La macchina della campagna funziona e stiamo rafforzando gli hub sotto ogni aspetto per proseguire nella direzione che abbiamo segnato. E intanto casi Covid in calo. Nell'ultimo bollettino 80 quelli registrati sulla base di 816 persone testate. Sono stati processati in totale fra molecolari e antigenici 4.983 tamponi con un tasso di positività stabile all'1,6%, due le vittime purtroppo. Mentre sul fronte della pressione ospedaliere i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11,2 in meno, mentre quelli ricoverati in area medica sono 82,5 in più. Sono invece 2.983 le persone attualmente in isolamento domiciliare. E con il dottor Gioacchino Greco, direttore del presidio ospedaliero Alghero Zieri, nei giorni scorsi abbiamo parlato non solo dei vaccini ma anche dei due bollini rosa assegnati da Fondazione Onda, ovvero l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere. E' anche ricordato il dottor Greco due momenti che si sono ottenuti all'ospedale civile e all'hub vaccinale del Mariotti. Sentiamolo. Dottor Greco, con lei parliamo generalmente soprattutto per il periodo che ce lo impone di ab vaccinale, vaccini di attenzione, insomma di Covid, ma la sanità ha anche dei momenti di positività, tanti dobbiamo dire, ma oggi parliamo di questi due bollini rosa. Sono due bollini che sono stati assegnati al reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale civile. Perché? Allora, buongiorno a tutti. I bollini sono stati assegnati alla struttura, al presidio, per il tramite del lavoro condotto dalla struttura complessa di ostetricia e ginecologia, che ringraziamo dal primario, dal dottor Careddu, alla dottoressa Pireta, che sono stati i fautori di questa attività, è un grande riconoscimento mai avuto dal nostro presidio che riconosce il lavoro fatto in questi anni e l'attuazione di un percorso che garantisce alla donna una determinata qualità che si concretizza anche nell'azione del parto. Quindi noi siamo veramente felici perché finalmente viene riconosciuto il grande impegno di tutti gli operatori anche da enti terzi che garantiscono la qualità al nostro servizio, al nostro sistema. Ci ricolleghiamo perché il giorno del 25 novembre è stata fatta anche una cerimonia molto bella perché è stata inaugurata una panchina qui all'ospedale civile e poi avete rifatto qualcosa di questo tipo a Lab contro la violenza sulle donne. Sì, con iniziativa da parte di alcune associazioni abbiamo garantito la permanenza di questa panchina rossa a simbolizzare quanto le istituzioni sono vicine a queste situazioni che purtroppo continuano a verificarsi. Io ricordo che quest'anno siamo a quota 109 delitti femminicidi. La nostra struttura è allertata e seguirà un percorso che si chiama percorso rosa per garantire la massima assistenza a tutte quelle donne che hanno necessità di assistenza nelle prime fasi. Il nostro pronto soccorso ha già attuato un percorso con stanza anche dedicata nel momento in cui ci dovesse essere l'ipotesi di una situazione di questo genere e siamo pronti a collaborare come al solito con le forze dell'ordine per dare la maggiore tutela alle donne. E questo era il dottor Greco. Ora noi ci fermiamo, diamo la linea alla pubblicità. Ritorniamo subito. Ritorniamo in studio. Restiamo in ambito sanitario e sempre in quello del covid perché c'è un calo delle donazioni di organi. Questo ha fatto sì che i medici lanciassero un allarme. Se ne è parlato nei giorni scorsi durante un convegno svoltosi all'hotel Grazia dell'Eda di Sassari organizzato dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia e intitolato il percorso che conduce dalla donazione al trapianto d'organo. Sensibilizzare gli operatori sanitari e le famiglie alla cultura della donazione anche in considerazione del calo degli espianti che si è registrato in epoca covid. Questo è il tema dell'importante convegno che si è svolto negli scorsi giorni all'hotel Grazia dell'Eda di Sassari organizzato dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Sassari e intitolato il percorso che conduce dalla donazione al trapianto d'organo. Moderato da Antonio De Murtas l'evento formativo si è svolto sia in presenza che online e da remoto con il presidente dell'ordine Nicola Addis che ha salutato la platea dato il via ai lavori che sono proseguiti per tutta la giornata con importanti relazioni su tutti gli aspetti legati ai trapianti fin dall'identificazione del potenziale donatore. A sottolineare l'importanza della donazione la dottoressa Paola Murgia coordinatrice della sezione donazione organi della U. Il trapianto, ha detto la Murgia, è l'unica chance terapeutica per molti pazienti e le liste d'attesa superano le donazioni e questo comporta la morte di molte persone. In tempi di pandemia le sale operatorie sono state impegnate nelle crisi respiratorie causate dal covid-19 e questo ha comportato un calo sensibile delle donazioni. Anche l'allontanamento dei familiari dagli ospedali per evitare i pericoli di contagio ha proseguito la dottoressa. Hanno interrotto il dialogo diretto dei medici con i congiunti aumentando così il diniego all'espianto. Fortunatamente ha concluso la responsabile dei trapianti della U. I dati nell'ultimo periodo sulla donazione stanno già migliorando nel corso dei lavori. È stato evidenziato da Antonio De Murtas che oltre 300 autorizzazioni agli espianti nel corso della sua lunga carriera che nessun report mondiale ha mai registrato un risveglio da morte celebrale. Condizione indispensabile perché si possa autorizzare un espianto e che non ci sia il benché minimo dubbio di segno vitale. Ritorniamo ad Alghero esattamente nella sala della fondazione Alghero Alqualte perché questa mattina è stato presentato lo spettacolo pluripremiato Moby Dick del Teatro dei Venti che andrà in scena nel porto turistico di Alghero dal 17 al 19 dicembre nell'ambito dei festeggiamenti del Cadean. A parlarne non solo il presidente della fondazione Alghero Andrea De Logu a fare gli onori di casa agli assessori Salaris e Peru e Valeria Ciabattoni in veste di consulenza artistica dell'ex pop teatro. Presenti anche gli alunni dei plessi del Sacro Cuore Maria Macolata degli istituti comprensivi 1 e 2 della nostra città che saranno partecipi ai laboratori con la compagnia nei giorni dedicati alle allestimenti. Ma sentiamo le interviste. Valeria Ciabattoni, consulente artistica di ex pop teatro per festival gay parlaci di questo spettacolo. Lo spettacolo è uno spettacolo che già dal titolo evoca sensazionalità. Il Moby Dick che appunto resterà dal 13 al 19 con varie iniziative è lo spettacolo il 19 alle 11.45 presso la banchina del porto banchina d'arsena ed è prodotto dalla compagnia dei venti. È un colosso, un mostro. Si parla della balena e si parla di tutta la storia condensata in un'ora dove 80 persone, 25 artisti tra attori, danzatori, acrobati, musicisti insieme all'aiuto di figuranti, più o meno circa 50 persone tra bambini, adulti e giovani metteranno appunto la storia della balena e la sua guerra con Acab in piazza. Quindi coinvolti anche i bambini. Sì, assolutamente. Anzi, questo ci fa grandissimo piacere perché il progetto è basato proprio sul coinvolgimento della comunità a tutti i livelli, a tutta l'età perché lo spettacolo deve essere offerto a tutte le categorie di età. Hanno aderito al progetto due istituti comprensivi di Alghero, l'istituto comprensivo 1 e l'istituto comprensivo 2 e siamo contenti che per tutta la settimana saranno impegnati nel pomeriggi a fare laboratori per essere integrati nelle scene di introduzione dello spettacolo. Presidente De Logo, uno spettacolo, una performance Moby Dick che sicuramente interesserà tantissimo e mi affascinerà. Abbiamo parlato prima con la signora Ciabattoni, anche i bambini saranno integrati e resi partecipi di questo show. Sì, esatto. È un progetto bellissimo, uno spettacolo teatrale all'aperto bellissimo e soprattutto inclusivo perché riguarderà appunto le classi delle scuole elementari che saranno protagoniste di questo spettacolo, come comparse, così come anche l'Università della Terza Età, la squadra di rugby. Insomma, uno spettacolo splendido che si terrà alla banchina dogana il 19 di dicembre, ma sarà preceduto da una settimana proprio di laboratori interattivi con questi bambini che oggi sono già qui presenti e con tante altre persone che collaboreranno in questo progetto bellissimo. Poi Moby Dick, insomma, è una favola splendida che ci ha sempre appassionato. Ne approfittiamo anche perché domani, mercoledì, 8 dicembre, si accende l'albero di Natale. Alvia il programma del Cadean. Alvia il programma del Cadean. Il programma del Cadean è che abbiamo voluto dare proprio un'immagine di normalità, di serenità, di speranza, per cui si parte domani con l'accensione dell'albero, condizioni meteo permettendo perché purtroppo domani è prevista una mezza burrasca, ma siamo fiduciosi che magari per le 18-19 si calmi un po'. E dopo un mese di eventi, un mese di eventi, come abbiamo detto in conferenza stampa, di qualità, tante date a teatro, tante date all'aperto proprio per cercare di festeggiare al meglio, di lasciare questo 2021 e festeggiare il 2022 e quindi con addirittura quattro giorni in banchina dogana, dal 29 al primo di gennaio e poi Moby Dick che appunto sarà anche quello all'aperto sempre a banchina dogana. Domani, mercoledì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, alle 18 è prevista l'accensione dell'albero di Natale in piazza Portaterra che battezza come da tradizione la prima settimana del lungo mese di eventi e appuntamenti del Cadean dell'Alghè, così come è stato detto dal presidente della Fondazione Alghero, Andrea De Logu. Un pensiero per te, questo è il titolo del progetto a cura del flower interior designer algherese Tonino Serra, realizzato come sempre con il prezioso contributo degli studenti del liceo artistico di Alghero che vedrà come protagonista il colore oro e turchese. Le bellissime stelle di diverso diametro rappresentano la ricchezza della rivera del corallo, il turchese dedicato ai riflessi invece del colore del mare con una forte armonia cromatica ispirata allo stemma araldico della città di Alghero. La novità del nuovo allestimento è caratterizzato dall'inserimento di piccole strutture rotonde che unite tra loro formano un riflesso dove verrà incisa una frase, un pensiero, dai ragazzi della città di Alghero. Sempre domani, nelle ore 19, le vie del centro storico faranno da palcoscenico naturale per il funky jazz orchestra, l'evento che chiude in musica Pla Salghè. E parliamo allora di Pla Salghè perché si avvia alla conclusione il fortunato cartellone di eventi che ha preso il via a metà novembre con la musica itinerante nel centro storico e le sere al mercato. Un tour degustativo nei ristoranti della città ha permesso di riscoprire i piatti della tradizione algherese accompagnati dagli ottimi vini locali. Con la giornata di domani, quindi 8 dicembre, Pla Salghè lascia spazio al Cadean. Sarà proprio l'accensione dell'albero di luce a portaterra con la musica dei funky jazz orchestra di Berchidda a dare l'avvio al cartellone di manifestazioni natalizie. L'orchestra stabile itinerante composta da oltre 20 elementi tra clarinetti, trombettisti, flauti e sax diretti dal maestro Antonio Miloni inaugurerà l'accensione dell'albero alle 17.30 per poi proseguire con una street parade di mezz'ora nelle spettacolari vie del centro storico. La musica itinerante offrirà un repertorio in continuo rinnovamento fatto dai più grandi successi funk, jazz e rhythm and blues, abilmente suonati dai musicisti galluresi e loguduresi. Il concerto terminerà negli spazi del mercato ortofrutticolo dove si aggiungeranno altri elementi all'orchestra con il progetto stabile The Funky Soul Project presentato per la prima volta in occasione di Time in Jazz 2021, un progetto carico e ricco di funk soul con i successi che hanno segnato la storia di questa musica. La serata proseguirà alle 18.30 sempre all'interno del mercato con il Brindisi Rosa. L'iniziativa è curata dalla delegata regionale Nadia De Santis dell'Associazione Nazionale Vino Rosa Italiano che ha la finalità di promuovere, divulgare e valorizzare il vino rosa del territorio italiano e in questo contesto far conoscere le eccellenze del rosa territorio algherese. Si potrà accedere al mercato solo a seguito controllo del Green Pass. Sarà consegnato un ticket gratuito valido per ricevere una sacchetta con calici e un Brindisi Rosa fino ad esaurimento del nettare di Bacco Rosa messo a disposizione dalle cantine Selle Mosca e Santa Maria la Palma del Consorzio Tutela Vini di Alghero Doc che hanno aderito all'iniziativa. La valorizzazione e la mescita sarà cura degli studenti del prestigioso istituto alberghiero di Alghero, coadiuvati dai loro professori. Con questi due appuntamenti del giorno dell'Immacolata si conclude il fortunato cartellone di Place Alghe, studiato da Amministrazione Comunale Fondazione Alghero con il supporto di Parco di Portoconte, Consorzio Turistico Rivera del Corallo, Fipe Conf Commercio Alghero ma anche Consorzio Tutela Vini di Alghero Doc, Vino Rosa Italiano, Coldiretti, Domos e Welcome to Alghero che ha riavvivato il novembre cittadino. Ed ora una finestra sullo sport e parliamo di tennis. Due vittorie e una sconfitta nella settimana del tennis club Alghero impegnato nel campionato invernale regionale di tennis a squadre. Nel match casalingo disputato domenica è valido per la seconda serie maschile. I ragazzi di Capitan Michele Fois hanno battuto 3-0 il club tennis Macomer A grazie alle vittorie di Cristiano Monte, 6-1, 6-3 su Alessandro Scintu, di Alessandro Concu, 7-5, 6-2 su Alessandro Albano, capitano del Macomer e del doppio Nicolo Serra Michele Fois, 6-3, 6-4 sulla coppia Scintu-Albano. Doppio impegno per le ragazze di Capitan Barbara Galletto nella seconda serie femminile. Prima è arrivato il successo nel recupero infrasettimanale 0-3 sui campi di Ozzieri e poi una sconfitta con lo stesso risultato domenica a Porto Torres con i K.O. di Claudia Bardino, 6-4, 6-1 da Maoddi, Alice Martinez, 6-1, 6-0 da Scano e del doppio Marta Cau e Alessandra Ogno, 6-0, 6-3 contro De Roma e Latte. Il tennis chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo ma prima di lasciarci vi ricordo che l'informazione di CatalanTV ritornerà puntuale giovedì alle 13.30 dopo la pausa per domani per la Festa dell'Immacolata. Grazie per averci seguito a voi tutti, un buon proseguimento di giornata.